Ciao bambini, sono Claudia, una lettrice della Biblioteca di Monfalcone. Il libro che vi presento oggi si intitola Che rabbia! di Mireille D'Alanse, Babalibri editore. Roberto ha passato una bruttissima giornata. Ehi tu, levati quelle scarpacce, gli dice il papà. Ecco fatto, gli risponde Roberto. Per cena ci sono gli spinaci. Piuttosto non mangio, esclama Roberto. Sale in camera tua, dice papà, e scendi solo quando ti sarai calmato. Non ci penso neanche, risponde Roberto. E lassù, nella sua camera, Roberto sente una cosa terribile. Che sale, sale, sale. Fino a quando... Esce fuori all'improvviso. Ciao, gli dice la cosa. Che facciamo? Tutto quello che vuoi, risponde Roberto. Bene, dice la cosa. Cominciamo da lì. E hop, la coperta vola via con tutti i cuscini. Crac, il comodino. Bang, la lampada. Oh. Adesso tocca gli scaffali con tutti i libri. Wow. Poi la cosa si avvicina al baule dei giocattoli. Aspetta, quello no, urla Roberto. Hai capito? Smettila. Stupido, il mio camion preferito. Che cosa ti ha fatto quel brutto bestione? Non ti preoccupare, ti aggiusterò io. E tu, vattene via, cattivo. Oh, la mia lampada. Aspetta, ti rimotta a posto. È il mio cuscino, tutto stropicciato. È il mio libro preferito. Ti ha asciupato tutto, poverino. Ecco, così va meglio. Ah, sei qui tu. Vieni che ti prendo. Forza, su. Dentro la scatola. E non muoverti più. Papà, è rimasto un po' di dolce.